Una lettera per ringraziare chi avvigevano ha aiutato Filippo. A scriverla è Sandro Incarbone, il fratello dell'autotrasportatore scomparso ai primi di gennaio e per il cui omicidio sono in carcere Michael Mangano e il suo complice Gianluca Iacullo. Un ringraziamento al vicino Giampiero, agli amici del bar, ai colleghi, ai tifosi della palacanestro e a tutti quelli che avevano voluto bene a Filippo, ma anche alle forze dell'ordine che hanno portato alla luce la verità. Una lettera toccante che Sandro scrive medesimandosi nel fratello, immaginando come Filippo avrebbe raccontato tutto quello che è successo dopo la sua morte. Questo è il testo del messaggio. Ciao a tutti. Non pensavo di fare tanto scalpore dopo che per qualcuno sono stato un oggetto da nascondere, da buttare in un fiume. A essere sincero, questo l'ho pensato per un mese. Purtroppo dove stavo i suoni, i rumori erano tutti cupi o vattati, lì sotto era freddo, ma poi un raggio di sole mi ha riscaldato, illuminato e una volta uscito ho sentito tutto il vostro calore, l'amore. All'improvviso stavo all'asciutto e al caldo, riscaldato dalle vostre parole, dalle vostre preghiere. Vi ringrazierei uno a uno, ma devo dire che siete davvero in tanti. Lasciatemi almeno ringraziare chi ci ha messo tanta energia e impegno, chi ha fatto sì che ritornassi fra voi, seppur per poco e non per quanto merita ogni uomo. Ma in quel poco ho sentito tutto, ve l'assicuro. Ancora grazie alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai miei vicini, al signor Piero, a tutti quelli che hanno speso una parola buona per me, ma soprattutto alla città che mi ha adottato dal 1998, ai miei colleghi che sempre mi hanno aiutato e anche sopportato, sempre grazie ai miei compagni gialloblu del Vigevano. Io, persona buona che sono, ringrazio anche chi mi ha voltato le spalle, facendomi capire cosa c'era dall'altra parte. Grazie a tutti. Filippo.